Benetti era un duro Benetti aveva della ruggine con qualcuno di noi e quando dovevamo affrontare il Milan ognuno si doveva prendere il suo io mi prendevo Rivera Capello si prendeva Benetti però Benetti era uno tosto allora ha detto ma Benetti bisogna fargli male perché è uno così e un giorno in occasione della partita Salvadori dice vabbè uno lo sbilancia l'altro gli entra e così fecero solo che Benetti era talmente forte che non batte due o tre volte il piede per terra e si ritornò in piedi da quel momento intorno a Benetti c'era il vuoto nessuno gli andava più vicino a Autore dei sovrapposti